Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Gortua e Tocchio, veniamo avanti! Ehi, questo libro è tuo? Sì, da piccolo ho visto un K e mi sono appassionato. Davvero? Sei sempre stato un po' strano, eh? Beh, un K. Quello che vedi è roba da mangiare dell'al di là. Sembra commestibile, ma potrebbe avere degli effetti un po' diversi. Cibo spettrale. Il cibo dello stettopo fa recuperare salute come il cibo normale, ma aumenta le tue capacità in modo temporaneo. La durata dell'effetto di un cibo specifico è mostrato da un misuratore posizionato nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. In basso a sinistra dello schermo. Quindi, se io vado in inventario, non dice un cazzo. Comunque sia, aumenta le tue capacità in modo temporaneo. Questo è però temporaneo, vedete che c'è un... Qui c'è un orologio. Invece qua, non c'è. Ogni volta che io prendo un cibo, mi aumenta il PV massimo possibile. Non lo so, non è chiaro. Mi piacerebbe tanto saperlo. Perché se no qui mi sto sempre a mangiare. Mi spacco di roba da mangiare qui. Ok. Il bambino delle fogne. Un rapporto scritto da Kekei in merito a numerose scompassi avvenute nei pressi di un tombino. Attendo questo rapporto... Scusate. Ottenendo questo rapporto riceverai punti abilità spirituali aggiuntivi. Eh, scusate, ho il mio impappinato. Questi sono alcuni file dei miei vecchi casi. Non perderli. Magari tornano utili. Sì. Appunti di Kekei. I vecchi appunti di Kekei sono nascosti in giro per la mappa. Se li troverai, otterrai punti abilità spirituali. Utili per migliorare le tue capacità. Beh, sicuramente è vero. Lista dei periodici. Mi servono tutti il prima possibile. Grazie, rinco. Spero che non sia rincoglionito. I portali della trottomba. Enciclopedia della stregoneria giapponese. Vita e morte. Cultura e storia. Al monaco dei triangoli istantanei. Non ci ho capito un cazzo. Beh, sono contento, va. Eh, ok. Prendi di mangiare per il cano. Beh, sarà molto buono. Soccorso, proprio. Mm, che delizia. Eh, vediamo un po' se c'è altro. Oh, salve. Ma che cosa? Daruma. Una bambola rotonda. Che si dice rappresenti un monaco buddista. Che porti fortuna quando viene esposta. Esposta dove? L'ha messa lì nel casino. Nell'angolino. Cioè, non si vede un cazzo. Questo l'abbiamo là. Peccato che non mi dica che ho già letto qualcosa. Se no, il rischio di dire il 5-4-8-3-Cogia. Che leggo di merda. Ok. Vediamo un po'. Guarda. Nota scritta a mano. Perché chi? I poni gli utensili. Putta via i contenitori di cibo vuoti. Pulisci la cucina prima che torni. Pigrone. Ma chi cazzo? Con chi beva? Eh? Vuoi pulire tu? Scordatelo. Questo è il marchio del gioco. Quando lo avviate. Tango-chan. Tango è uno dei produttori di quelli. Allora, questo l'abbiamo fatta. Da qui mi sembra che siamo venuti perché c'era il bagno che era molto bello bello. E vediamo se c'è altro. Ah, apprezzano. Oh. E questo cos'è? Ti piace? Prendilo. Dove l'hai trovata? Con il mio vecchio lavoro avevo degli agganci. Ma tu chi sei? Diciamo che ero uno dei cani da guardia di questo paese. Ma ho preferito i randaggi. Beh, chiunque tu fossi, di certo non eri un cittadino modello. Beh, ok. Ho preso un... Mi dici cos'è per piacere? Mi dici cos'è? E dimmi che cazzo ha preso, ve lo dirà al momento giusto. Guarda. Chi sono? Erano amici. Eh? Nota bene, erano. Il nostro amico mascherato non esita a uccidere. Neanche noi avremmo dovuto esitare. Quindi avete combattuto insieme contro di lui? Tutti morti, quindi. Bene, ora abbiamo un'arma. È ora di andare. Beh, non è chiaro perché erano. Potrebbe voler dire che erano nel senso che sono morti o erano che non sono più amici, che sono diventati nemici. Quindi non ho capito cosa intendesse lui. Però, comunque sia, io penso che adesso qua... Oh, c'è qualcosa. Pro memoria incontro. 5 del pomeriggio, incontra Erika alla statura di Ebius, uscita a ovest. Chi è sta Erika adesso? Non mi dici mai un cazzo, non mi dici, vabbè, proviamo a uscire, tanto non penso ci sia altro da fare. Se non c'è altro, andiamo. Sì. Andiamo un po'. Una barriera. Abbatteranno l'intero edificio. Deve esserci il modo per infrangere questa barriera. Trovalo. Ok. Una pietra della barriera. Distruggila. Se ne devono essere altre. Cerca. Mi fa andare. Ecco. Ok. Ah. Che bello. Cosa succede? Le interferenze dell'oltretomba stanno aumentando a causa delle barriere. Ci schiaccerà se non facciamo qualcosa. Ok. Ehi. Vediamo un po'. E' troppo lontana. Colpiscila con una freccia. Eh. Come faccio? E stai d'arco. Ah, ok. Ok. Molto bene. Il ford era l'arco. Ok. Va bene. Dobbiamo di fare in fretta. Encicopedia del calendario giapponese voce 2. Obon. La data è variabile, ma è solito intorno al 15 maggio. Un festival tenuto per onorare gli spiriti degli antenati che ci hanno lasciato. Lodon ritrova le sue origini in una leggenda secondo cui è possibile salvare gli spiriti che sono finiti all'inferno. Si ipotizza che il buon Odori, una danza dell'Obon, sia nato come espressione di gioia per aver salvato i morti da una vita terrificante nella di là. Beh, che cosa carina. Ok, andiamo. Qui ci sarà il solito cesso, immaginavo. Andiamo. Abbiamo il tempo, purtroppo. Sono altre pietre in giro. Continua a cercare. Ok, se mi fai passare, mi fai andare. Ok. Sto seguendo la guida, eh. Non insomma, nel senso. Non resisteremo a lungo. Muoviti. Sto facendo il possibile. Rilassati, però. Ok, qui ci sarà il cesso. Ovviamente, c'è sempre un cesso. Ok. Ok. E ora, dove andiamo? Guarda in giro. Qualcosa ci sarà. Allora, io accendo la luce tanto, insomma. Ok. Non c'è... Oh, vai! Andiamo. Ok, non c'è altro qua. Magari se c'era fosse qualcosa. Ok, scusate. Devo vedere se c'era qualcosa. No. Possiamo salire. Ma scusate. Non c'è un cesso. Ok. Quello è il nucleo. Distruggilo. Perfetto. Per un pelo. Ne avrai fatto anche a meno. Guarda fuori. Chi ci ha messo in drappola non sarà lontano. Ok. Adesso mi guardo con calma quello che c'è. Così vediamo perché tanto qualcosa ci sarà, no? Qui un frigorifero vuoto. Un mensolo che non si può fare mensolare. Qui si può prendere. Grazie. Molto gentilo. Qua si va fuori. Vediamo un po'. Sembra non ci sia nulla. E sembra non ci sia nulla. Ma io ci ho provato. Però qualcosina mi abbiamo preso. Alla fine mi va bene lo stesso. Spero di non aver lasciato niente indietro. E andiamo avanti. Ok. Adesso dobbiamo uscire. Perfetto. Andiamo a vedere un attimo di sopra. Poi scendiamo di sotto. La barriera è scomparsa. Il nostro amico potrebbe essere ancora nei paraggi. Scendiamo. Sì. Scendo subito. Volevo giusto vedere se ci fosse stato qualcosa di utile. Sembrerebbe. Lì no. Oddio. Comunque dobbiamo arrivare lì. Va bene. Tutto chiaro. Oddio mi sono spaccato le cosse. Scendiamo. Mi sto perdendo. Mi sto vomitando. Aiuto. Ok. Dove ne siede proprio più. Non c'era un ascensore. Lo facciamo prima. Cosa c'era? C'è qualcuno. No ma. Quindi li vedi anche tu eh? Ok. Ascolta bene quello che ti dico. Perfetto. Immagino che la barriera fosse opera di questo tizio. Inseguiamolo. Vediamo un po' cosa fa così. Allora. Però c'è un po' più veloce però. Mi sta scadendo il latte signoro. Si muova. Si muova. Ok. Quello cos'è? Corruzione. Prova a usare il mio potere per sondare. Come prima. Devo sfondare chi? Ehm. Chi è? Il tuo potere? Visione strade. Vedo qualcosa. È il cuore della corruzione. Distruggilo. Rilassati però. Ok. Quella corruzione li aveva intrappolati. Corruzione e spiriti. Talvolta gli spiriti vengono intrappolati dalla corruzione. Puoi usare la visione spettrale X per scoprire l'origine. Quando avrai distrutto la sorgente della corruzione è liberato gli spiriti. Potrai sospirli. Saranno una marea di spiriti così in giro per la città. Dai. Proseguiamo. Beh. È molto interessante così. Abbiamo già trovato un altro, eh. Vicino al market. Dove pensi di andare? Torna là. Rilassati. Però insomma. Sei un po' rompicogliore. Te la merito di cogliete. Tranquillo. Ok. E dobbiamo stare attenti perché c'è tanta roba. Noi dobbiamo andare di là veramente. Vedo la guida che è meglio. Ok. La traccia si interrompe. Magari si è accordo di noi ed è scappato. Vabbè. Viste le circostanze faremo una deviazione. C'è un grande santuario da queste parti. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Diamo un'occhiata. Mi sembra abbastanza improbabile. Non si può mai sapere. Dopotutto ho trovato quell'arco in un santuario. Rubato vorrei dire. Non lo so. Chi può dirlo. Beh. Molto. Va bene. Io ho. Chi è questo? Leggi i pensieri. Davvero? Io non penso di averlo accarezzato. Così ho detto. Cioè che cazzo vuol dire così? Sono nero. Cioè nero nel senso che è arrabbiato e incassato proprio come. Non lo so. Oppure sono nero nel senso che. Non ho capito scusate. Ok. Oh salve. Vai. Perfetto. Mi fa piacere eh che ci siano tutte queste cose. L'esplorazione aiuta alla fine no? Allora andiamo pure avanti. Ok. C'è tanto c'è tanto effettivamente da fare qui. Però non ci perdiamo i chiacchiere. Ok. Era io. C'è tanto? C'è stato io? No era già così. Ne sono abbastanza sicuro eh. Non sono io che sto facendo questo casino. No 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 no. Era tutto così. Andiamo a stare vicino a strada. Qui a strada. Oh ma c'è altra gente. Aspetta. Avverto qualcosa qui vicino. Che cosa? Una specie di fulcro. Di energia. Ok. Quindi. Beh. Io salverei perché un po' che non l'ho fatto. C'avate che caratterisco sempre a farle. E quindi sì. Ok. Allora. Vediamo la mappa. Che palle che non ci sia un pulsante per la mappa. Dobbiamo andare qua. Va bene. Tac. C'ha leppa. Vediamo se c'è altro. Mi sembra di sì. Grazie. Molto gentilo. Qui non si può andare. Io guardo. Perché tanto abbiamo visto che. Si può fare tante robe. Io vorrei. Infatti c'è della gente. Dopo un giorno ci spiegheranno come fare. Perché tanto non ne ho idea per adesso. Allora. Lì c'è qualcosa. Qui c'è un albero. Della corruzione. Perfetto. Ottimo. Fa piacere. Dai. Sono cose carine queste. Eh sì eh. Poi vediamo se c'è altro. Senza morirci malo. Dai. Vediamo. Dai. Devo lontanarmi. Rilascia. Ok. Oh. prega. 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 PS vento massimo. Ora puoi accumulare. Non ho capito. Stato di Gizzo. Prega le statue di Gizzo. Prega le statue di Gizzo. Aumenterà permanentemente i tuoi PS massimi. Ovvero. l'energia necessaria per utilizzare la tessitura eterea. Beh. Tutto ciò è veramente fantastica. Scoperto la fede eh. Con questo disastro. Sì. Wow. Mi è piaciuta sta cosa. Non lo sapevo. Devo stare fermo vero? Perché se mi muovo. Cambio qualcosa. Ok. Facciamo così. Tac. Ciali. Qui siamo già pieni. Ah. Siamo a 31. Oh. C'è un portoletori lassù. Dovremmo purificarlo. Sì. È un'ottima idea. Un tango. Forse possiamo usarlo per salire su quel tetto. Ah. Ne tengo giusto uno dietro l'angue. Nel senso del... Non ho capito bene. Però insomma. Premi A. Left trigger. Oh. Oh. Che roba. Vero? È andata meglio di quanto pensassi. Gli yokai sono utili. Gli yokai. Gancio e velo. E il rampino che suona come pompino. Ora puoi spostarti in un volo utilizzando le tue capacità di gancio e volo. Dillo il rampino. Sembrava troppo pompino. Rompi. Il gancio. Allunghi un filamento fino a un tengu. Che sfrutti come appiglio per rissarti rapidamente in alto. Tieni premuto left trigger. Mira un tengu. E poi premi A per aggrapparti. Aggrappati a sto tengu insomma. Volo. Volo. Quando sei a medaglia premi e tieni premuto A per volare per un breve tempo. Puoi impostare i contrari del volo in tieni o alterna nel menu opzioni. Scegli l'opzione alterna. Puoi premere B per atterrare. Non ci ho capito un cazzo. Ok. Sono felice di non capire mai un cazzo come solito. Però. Eh. Signor tengu. Non tengu di nero. Eh. Come me la. Sì. Ok. Ho capito tutto stranamente. Cosa devo fare nel senso. Ok. E non me la fa prendere però. Che stronzo. Mi ha fatto solo spendere. Spendere. Delle brutte cose. Sbagliato. Scusate. Colpa mia. Devo ancora prendere. Confidenza con le cose. Eh. Vabbè. Insomma. Non ce la posso fare. E 50.000 pulsanti. Prendi quello. Prendi quell'altro. Insomma. Non ci ho capito un cazzo. Mi sono ricognito. Sono sempre il solito. Insomma. Non c'è niente da fare. Vabbè. Ehm. Comunque sia. Il portale qui. Però. Come. Me la sfango. Per arrivare a sto portalo. Non penso che bisogna saltare. Perché io. Se salto. Faccio una figura di merda epocale. Lo so già. Ehm. Allora. Io. Ehm. Come che funziona. Allora. Non ho capito come fare il salto. Che. Ehm. Dopo. Sono sicuro che succederà. Ok. Ce l'ho fatta. Era un po' indeciso. Scusate. Perfetto. Sembra che si sia dissipata altra nebbia. Già. Vedere i luoghi da cui puoi accedere alle missioni secondarie. Nel menu. Mappa. Ok. Missione secondaria. Oh. Ma. Ah. Ah. È un bel cazzo di casino. Io. Non so quale prenderà. Adesso preparerò con questo. Prendiamo questo che è buono. E prendiamo anche questo. File fail 038. una registrazione lasciata da un certo scienziato che parla di famiglia e gatti e come cazzo lo vedo sto file 188 qui file 088 088 a partire da oggi testerò un software di riconoscimento vocale programmato da un mio collega credo che l'abbia creato come atto di gentilezza dati i movimenti limitati delle mie mani non ne ha mai parlato in maniera esplicita ma di sicuro sa dell'incidente in ogni caso lo userò come diario dei miei pensieri questa mattina mia figlia mi ha chiesto di adottare un gatto ho il sospetto che l'abbia chiesto anche a sua madre ne dovremo parlare quando torno prendersi cura di un animale sarebbe un ottimo insegnamento il problema però è che di solito gli animali muoiono prima dei loro padroni non credo che lei possa comprendere questo aspetto temo anche che non se ne prenderebbe cura adeguatamente dopo un po' la responsabilità potrebbe ricadere su di me eh ma da torno sono bambini va bene ragazzi io direi che non è andata malissimo potrebbe andare meglio però insomma imparerò da temi tempo quindi come al solito io vi invito anche il commento se vi piace la serie fa mi sapete cosa è piaciata vi lascio da sotto la cima ciao ciao ciao